a queste due settimane da passare in pace chi sei tornato? ma io vado per una cosa sia giusta nella vita allora non è solo per i ragazzi parliamo di noi il killer devi prendere uno di noi e può fargli tutto quello che vuole è meglio che mi vada a fare una birra se no qua finisce male lo metti per quel ragazzo? quella famiglia è piena di problemi solo gli altri hanno problemi io riesco a non sentire niente potete farmi quello che volete hai sentito qualcosa? la ragazzina di ieri è troppo buona per te scusa ma tua madre dov'è? non gliene frega niente di te se no sarebbe tornato Nick! io lo so che sono un cattivo esempio tu invece devi spaccare il culo a tutti hai capito? no 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 no